Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar su SellExtreme 5. Mi presento, sono Davide Carpinello, sono responsabile delle piattaforme di trading online per il gruppo bancasella e quindi sarò il relatore per questo incontro. Durante quest'ora andremo a parlare dei tabelloni, andremo a fare un approfondimento su questa funzionalità molto importante per le piattaforme di trading online e andremo a vedere in quest'oretta le caratteristiche dei nostri tabelloni, come è possibile andare a personalizzarli, andremo a vedere poi come inserire, eliminare colonne, personalizzare e personalizzare le viste delle colonne, ossia il setup che io vado a impostare sui vari tabelloni per personalizzarli al meglio, andremo a parlare poi dopo delle liste personali e faremo alla fine un piccolo accenno anche alla mappa mercato, una delle nuove funzionalità che abbiamo introdotto all'interno della piattaforma SellExtreme 5. Al termine di questo incontro lascerò uno spazio di 10 minuti, un quarto d'ora per le eventuali domande che vorrete farmi, voi potete mandare domande digitandola nella parte inferiore della vostra finestra dove troverete tipo file domande al relatore e vi ricordo che tutti questi webinar poi sono anche visualizzabili in un secondo momento all'interno delle piattaforme, in quanto comunque sotto il menu aiuto abbiamo inserito una voce Corsi on Demand all'interno del quale andiamo a trovare tutti i webinar che abbiamo tenuto nel corso degli ultimi mesi, quindi ci saranno sia webinar legati all'utilizzo delle piattaforme, sia altri webinar tenuti da altri docenti quali per esempio il Maurizio Milano sull'analisi tecnica e sull'analisi dei mercati oppure i corsi di Pierluigi Gerbino sulle tecniche di trading, sugli errori del trading eccetera. Ora passo subito a parlare dei tabelloni e andiamo a vedere un po' le loro caratteristiche di base. Per andare a richiamare innanzitutto un qualsiasi tabellone è sufficiente navigare il menu di navigazione in alto, per esempio se voglio andare a trovare le azioni del paniere Italia del Fuzzimib, quindi navigherò il menu, il sottomenu, Fuzzimib e verrà visualizzato quindi la mia stock list o tabellone. Come qualsiasi finestra della piattaforma Select Stream 5 è dimensionabile, quindi sono io utente che vado a scegliere le dimensioni e dove collocare il tabellone all'interno del layout e specificatamente per il tabellone cosa potrò fare? Per esempio potrò ordinare le varie colonne in ordine crescente o decrescente cliccando semplicemente sul titolo della colonna, quindi per esempio la denominazione voglio che vada da UX ad A2A oppure viceversa. Ancora posso prendere per esempio le varie colonne e spostarle, quindi semplicemente prendendo la colonna e trascinandola, quindi per esempio il denaro voglio che venga visualizzato dopo l'ora, prendo e sposto, quindi semplicemente con il drag and drop, ho la possibilità inoltre, sempre dal tabellone, di utilizzare la funzione di drag and drop per caricare i titoli su altre finestre, per esempio io al momento apro uno scalper book del titolo A2A, voglio andare a visualizzare, anziché A2A voglio andare a vedere Monte dei Paschi, prendo un nuovo titolo, lo trascino all'interno e vedete quindi come si aggiorna immediatamente, quindi la funzione drag and drop molto utilizzata all'interno del tabellone, altra cosa per poi attivare da un tabellone le varie finestre per il mio trading, basta che clicchi col tasto destro del mouse e avrò l'elenco quindi con un menu contestuale riportante tutte le voci e tutte le finestre che posso attivare su singolo titolo, quindi dalle finestre di dispositivo, al grafico, al dettaglio eccetera. Come già spiegato anche nei precedenti webinar all'interno del SelectStream 5 abbiamo anche introdotto il concetto di selezione multipla, cosa che non era presente nella SelectStream 4, quindi potrò per esempio una volta creata una lista personale, ne userò qua una già creata in precedenza, posso per esempio andare a inserire all'interno di una lista più titoli utilizzando la selezione multipla, quindi se volessi per esempio andare a trascinare all'interno della mia lista personale i titoli che vanno da Terna a Ux, sarà sufficiente che clicchi lo Shift all'interno della mia tastiera, dopodiché vado da Terna fino a Ux, dopodiché prendo, trascino e in questo modo quindi posso fare una selezione multipla e un trascinamento che rende molto più veloce il caricamento dei miei titoli sulla mia lista personale. In questo caso abbiamo visto lo Shift, ma posso usare per esempio anche il Control della tastiera per fare una selezione non consecutiva, per esempio voglio prendere Snam e Telecom Italia, tengo premuto Control all'interno della tastiera, prendo, trascino e vedremo appunto come Ux e Snam ReteGals verrà inserito all'interno della mia lista personale, quindi abbiamo visto allora ricapitolando velocemente l'ordinamento delle colonne, lo spostamento delle colonne, abbiamo visto come fare il drag and drop e lo spostamento di una cella o di una riga singola oppure di una riga multipla utilizzando il Control o lo Shift tramite la tastiera. Una volta allora vista in questo modo quindi posso andare a creare il mio tabellone o la mia lista di titoli come meglio desidero e come per qualsiasi alta finestra presente all'interno di Select Stream 5 potrò anche poi fare una personalizzazione grafica, quindi scegliere la configurazione che è più idonea alle mie caratteristiche operative. Per effettuare una personalizzazione o differenti modi innanzitutto posso agire sotto Strumenti, Configurazione generale e utilizzare questa finestra per definire qual è il default che voglio per tutti i tabelloni. Navigando il menu laterale ad albero, sotto Informativa troverò Tabellone. Da questa finestra quindi potrò scegliere per esempio il carattere e il fonte che voglio utilizzare all'interno di un tabellone, posso scegliere la griglia se visualizzarlo o meno e che tipologia di griglia vedere, potrò scegliere quindi il colore di sfondo, il colore dei titoli, potrò scegliere il blink, quindi il lampeggiamento dell'aggiornamento push che ricevo sulle singole celle e poi dopo avrò il visualizzatore di mercato, ma questa è una funzionalità che andremo poi a dettagliare meglio al termine di questo webinar. Vi faccio notare alcune icone che sono presenti all'interno di questa finestra, quali per esempio questa qua che è l'icona avanzate, che mi permette di accedere a tutta un'altra serie di personalizzazioni grafiche, quindi di default io posso personalizzare solo i titoli e contenuti con lo sfondo e il testo, ma agendo sulla voce avanzate avrò tutta un'altra serie di campi che posso andare ad editare e modificare per quanto riguarda il colore, il testo, il font. In questo caso quindi per esempio posso scegliere di modificare la selezione, quindi la mia riga blu che identifica il titolo che ho selezionato, oppure posso andare a variare le celle positive o quelle negative. Altra cosa, una volta che effetto una personalizzazione, qualora questa quindi non vada bene e volessi tornare indietro alla mia configurazione di default, sarà sufficiente poi cliccare su questa freccia azzurra che è presente nelle varie sezioni e quindi ci sarà un annullamento della modifica effettuata e procederò a riportare la configurazione grafica a quello che è poi dopo il mio default. Quindi se vogliamo fare per esempio una prova, possiamo per esempio modificare i titoli, li mettiamo verdi in modo che sia abbastanza evidente, applica, vedete come il titolo va a cambiare il colore e diventa verde, qualora quindi volessi andare ad annullare questa modifica, clicco sulla freccia azzurra, applica e quindi questa personalizzazione che ho fatto viene eliminata e ritorno alla mia configurazione, quella di default che ho impostato. All'interno della finestra configurazione generale c'è comunque un'altra voce molto importante per la personalizzazione del tabellone, ma in generale comunque di tutte le finestre, che è appunto la voce impostazioni comuni. Cliccando sopra quindi potrò andare a personalizzare quegli aspetti che sono comuni di tutte le finestre, quindi per esempio se io volessi che lo sfondo dei miei titoli diventassero sempre verdi, dovrei selezionare da qua verde e quindi da qua in avanti qualsiasi finestra, non solo il tabellone, ma qualsiasi finestra che conterrà un titolo, questo verrà visualizzato con lo sfondo verde. Quindi in questo modo non avrò bisogno di andare su ogni singola finestra per fare una personalizzazione, ma sarà sufficiente agire su impostazioni comuni e in questo modo la mia personalizzazione verrà applicata su tutte le finestre che come in questo caso contengono dei titoli che avranno poi dopo lo sfondo verde. Nel caso vado ad annullare e non procedo con la modifica, però abbiamo già visto così in questo modo due livelli di personalizzazione, una prima configurazione generale che vado a definire lo standard, il default che io voglio per le singole finestre, in questo caso noi oggi parliamo di tabelloni, quindi personalizziamo i tabelloni, oppure invece andando su impostazioni comuni vado a fare una personalizzazione su tutte le finestre agendo su queste, sulle varie voci che comunque sono presenti in tutte le finestre della piattaforma, tipo i titoli, contenuti, positivo oppure il carattere che voglio assegnare a qualsiasi finestra. Oltre a questa modalità di personalizzazione però abbiamo un terzo livello che è la personalizzazione del formato, col formato quindi ho la possibilità di personalizzare esclusivamente la finestra che al momento è attiva, come in questo caso io ho il tabellone del Futsimib aperto, tasto destro, formato, si ripresenterà diciamo la finestra di configurazione che abbiamo visto prima, ma sarà dedicata esclusivamente a questo tabellone, quindi tutti gli altri tabelloni avranno le caratteristiche che ho definito sotto strumenti configurazione generale, col formato invece andrò a fare una personalizzazione esclusivamente per questa finestra. Una cosa molto comoda inoltre è la funzionalità che ho sempre col tasto destro del mouse copia formato, che mi permette una volta che ho definito le caratteristiche tramite la personalizzazione del formato, posso andare a copiare queste impostazioni e incollarle su altre finestre, quindi per esempio decido di modificare questo tabellone andando a mettere i titoli delle colonne gialle, applica, confermo, nel momento in cui andrò ad aprire un altro tabellone questo si presenterà col default che ho definito prima, ossia col titolo in questo caso nero, ma potrò scegliere di utilizzare il formato che ho creato per il tabellone del Fuzzimib copiandolo e utilizzarlo anche per quanto riguarda per esempio il Fuzzimib star, tasto destro, incolla formato. In questo modo se una volta che definisco una configurazione che magari voglio utilizzare per altre finestre, sarà sufficiente che faccio copia formato e poi incolla formato. In questo modo non dovrò rifare tutta la personalizzazione, ma sfrutterò le personalizzazioni fatte una volta sola. Ora riapriamo un tabellone con una configurazione standard e andiamo a vedere un attimino come posso personalizzare le colonne che sono all'interno del tabellone. Andiamo ad allargare un attimino la finestra, come vi ho detto prima posso innanzitutto prendere e modificare le colonne e l'ordinamento spostandole, ma un'importante novità che abbiamo introdotto nella Seller Stream 5 ho la possibilità di inserire sia delle colonne standard, sia delle colonne indicatore, sia delle colonne personalizzate. Per andare ad inserirle devo cliccare con il tasto destro del mouse sul titolo delle colonne, tasto destro, vedremo colonne e dopodiché troveremo aggiungi colonne standard, aggiungi colonne personalizzate, aggiungi colonne indicatore, oppure qualora invece volesse rimuovere la colonna presente vado su rimuovi colonna. Andiamo allora a vedere queste tre tipologie di colonne che posso utilizzare, quindi cominciamo da quelle standard, tasto destro, colonne, aggiungi colonne standard. Nel momento in cui attivo il menu visualizzerò quindi l'elenco con tutte le colonne che io posso andare ad inserire all'interno del mio tabellone, questo elenco poi dopo cambierà anche in funzione del tabellone che vado ad aprire, perché per esempio lo stesso concetto può essere applicato anche su un portafoglio e quindi all'interno del portafoglio io avrò un set di colonne standard aggiungibili che sono differenti rispetto a quelle di un tabellone ordinario. Quindi andiamo a vedere per esempio, quindi tutte le colonne che sono a disposizione, ne abbiamo oltre 50 e questa diciamo è la colonna standard che era già presente però nella Select Stream 4. Nella Select Stream 5 abbiamo introdotto anche il concetto di colonne indicatore e colonne personalizzate. Con le colonne indicatorie ho la possibilità di inserire all'interno di un tabellone anche i dati riferiti ad un indicatore di analisi tecnica. Andremo adesso a fare una prova concreta, quindi tasto destro, colonne, aggiungi colonne indicatore e andrò a scegliere per esempio nuova colonna. Posso scegliere in questo caso magari di andare a introdurre l'indicatore MACD all'interno del mio tabellone. Dovrò quindi indicare alcuni valori che mi serviranno per il calcolo e per identificare la colonna all'interno del tabellone, quindi dovrò inserire il nome della colonna, il titolo della colonna, una descrizione, adesso qua procedo molto velocemente, dopodiché avanti, verrà visualizzata la finestra per indicare i parametri su cui dovrò andare a calcolare il mio indicatore di analisi tecnica, quindi sceglierò tra gli indicatori presenti il MACD, potrò personalizzare in questo caso il dominio, dopodiché è anche il time frame, per esempio se voglio che venga calcolato ad un minuto, 10 minuti, 60 minuti, come voglio, oppure con un time frame giornaliero, settimanale, mensile, oppure calcolato su un tick by tick, quindi in questo caso posso scegliere anche il time frame su cui andare a calcolare il mio indicatore di analisi tecnica, dopodiché clicco avanti e vedete che verrà creata una nuova colonna con il mio MACD, quindi man mano la piattaforma calcola per ogni titolo questo indicatore e mi permetterà di visualizzarlo aggiornato in tempo reale, quindi molto comodo per avere per esempio altri indicatori e poter avere un'analisi tecnica e comunque dei dati di riferimento sia all'interno di un grafico, ma anche come in questo caso all'interno di un tabellone. Altra funzionalità che poi dopo abbiamo introdotto come tipologie di colonne, tasto destro, aggiungi colonna personalizzata, tasto destro, colonne, aggiungi colonne personalizzata. Noi allora già di default comunque ve ne rendiamo alcune disponibili, quale per esempio l'advanced decline, per le opzioni abbiamo inserito anche le greche, quindi il delta, gamma, rho, teta, la volatilità implicita, eccetera. Però avrò anche la possibilità in questo caso, come in questo caso, di andare a crearmi io una mia colonna personalizzata. Per andare a scrivere la sintassi di una determinata colonna sarà necessario quindi conoscere un minimo di programmazione in JavaScript, però per esempio se volessimo fare un esempio molto semplice e anche magari privo di significato dal punto di vista operativo è tecnico ma era più che altro dimostrativo, posso andare a inserire per esempio una colonna che mi calcoli la variazione percentuale più 1, quindi dovrò scrivere semplicemente il codice, quindi return spazio il valore della variazione, in questo caso facciamo un esempio molto semplice della variazione percentuale e a questa vado ad aggiungerci 1, dopodiché dovrò definire i nomi, come chiamare questa colonna calcolata, la chiamerò quindi variazione 1, che è basata come tipologia sulla variazione percentuale, come titolo metto sempre variazione 1 e come descrizione variazione 1, una volta che ho compilato il tutto potrò fare per esempio un check sulla sintassi per vedere se ho scritto correttamente la formula, che in questo caso quindi ritornami il valore della variazione percentuale a cui aggiungere poi dopo 1, effetto un controllo, mi dice comunque tutti i parametri della colonna del codice sono corretti, dopodiché potrò compilare e salvare questa mia colonna, la colonna calcolata è stata compilata correttamente. Adesso chiudo e vedrò che oltre alla variazione percentuale avrò questa nuova colonna che sarà var1, prima di significato ma comunque è un esempio per far vedere cosa posso per esempio fare e vado a vedere quindi che mi troverò la colonna var1 dove visualizzerò il valore della variazione percentuale a cui sommo 1. Quindi ripetendo abbiamo tre tipologie di colonne, abbiamo quindi le colonne standard, diciamo quelle che di default vengono offerte dalla piattaforma, le colonne personalizzate dove posso o io andare a digitare e creare una mia formula in funzione delle mie esigenze operative oppure posso usare quelle che sono già state create di default da noi, dai nostri programmatori oppure ancora posso andare a aggiungere un indicatore di analisi tecnica e farlo visualizzare all'interno di una delle colonne della piattaforma SelectStream 5. Una volta quindi che ho definito il set di colonne che sono presenti all'interno del tabellone posso andare a salvare questo settaggio attraverso la funzionalità delle viste personali, quindi una volta che ho definito le mie colonne torno sempre sul titolo, tasto destro, vista colonne e posso dire salva la vista della colonna con nome, in questo caso la chiamiamo webinar, si conferma e la mia vista, quindi il mio setup di colonne è già stato creato e salvato. In questo elenco troverò tutte le viste che sono già state create e rispetto a quelle precedenti troveremo anche webinar, l'ultimo che ho creato, in modo tale da poterlo utilizzare anche all'interno di un nuovo tabellone, quindi vado ad aprire anche il tabellone del Fuzzitalia Star, in questo caso posso andare a scegliere di applicare una qualsiasi, oltre che la selezione una qualsiasi vista di colonne, ma posso poi dopo anche scegliere di andare a caricare la vista webinar che ho appena creato, quindi caricherò il mio settaggio di colonne, dove avrò la mia variazione percentuale più 1, dove avrò il mio MACT che man mano andrà a popolarsi e tutto l'ordinamento delle colonne che ho definito in precedenza. Un'altra funzionalità che può essere molto importante, quindi sempre nell'ambito delle colonne è la funzione per esempio poi di raggruppamento delle voci. Per farvi vedere un esempio vado ad inserire la colonna personalizzata Advanced and Decline, l'Advanced and Decline non è altro che questa colonna che mi indica col valore 0 gli indicatori, scusatemi, i titoli che hanno una variazione percentuale inferiore allo 0 e con 1 i titoli che hanno una variazione percentuale superiore allo 0, quindi Advanced and Decline sotto colonne, aggiungi colonne personalizzate. Una volta che ho impostato questa colonna posso chiedere alla piattaforma anche di raggruppare i titoli in funzione che l'Advanced and Decline sia pari a 0 oppure sia pari ad 1. Andrò sempre sul titolo, sull'intestazione delle colonne, tasto destro, tabella e poi chiedo di raggruppare e chiedo di raggruppare per questa colonna. Vedrete come qui nella prima colonna disponibile avrò il simbolo meno e più che mi permetterà così di raggruppare i titoli in funzione che il mio Advanced and Decline sia pari a 1, in questo caso oggi avremo solo Telecom Italia, Finmeccanica e Fiat oppure che abbiano un Advanced and Decline pari a 0. Quindi questa funzionalità una volta impostata sulla piattaforma e faccio vedere velocemente i passaggi, una volta impostato per esempio una colonna su cui voglio fare un raggruppamento che potrebbe essere l'Advanced and Decline oppure posso anche scegliere di fare per emittente, per il gruppo merceologico o per qualsiasi altra tipologia, tasto destro, tabelle, gruppi. Posso scegliere quindi una volta poi dopo, posso scegliere di fare un nuovo raggruppamento oppure eliminare il raggruppamento esistente oppure per esempio scegliere di visualizzare oppure di collassare, quindi fare in modo che vengano collassati e vengono già ristretti immediatamente in funzione della chiave di raggruppamento che ho scelto di impostare. Andiamo a togliere il raggruppamento e andiamo a vedere un'altra funzionalità di personalizzazione molto importante che è la formattazione condizionale. Ha un nome molto difficile ma in realtà il suo funzionamento è molto semplice. La formattazione condizionale mi permette di avere una determinata visualizzazione grafica di una cella qualora questa abbia determinate caratteristiche. In estrema sintesi, un esempio concreto di una formattazione condizionale è la variazione percentuale, perché io in qualche modo ho definito che qualora il titolo abbia una variazione percentuale inferiore allo zero, il colore della variazione percentuale rossa qualora sia superiore allo zero, la mia variazione percentuale diventa verde e questa è una delle tante formattazioni condizionali che posso creare. Ora andiamo a crearne una noi così di esempio pratico, come esempio pratico, tasto destro sempre sulla colonna, formattazione, selezione formattazione e decido di farne una nuova. In questo caso, visto che agisco sui volumi, posso dire per esempio evidenziami quei titoli che hanno un volume che è superiore a 5 milioni. Mi chiede il nome della formattazione e mi chiede anche una descrizione, volume superiore a 5 milioni e qui andrò a definire le caratteristiche grafiche che voglio andare ad impostare per questa formattazione. Quindi posso dire, sceglimi la colonna corrente oppure, visto che in questo caso sono sui volumi, quindi sceglimi il volume oppure fammi visualizzare qualora il volume di questo titolo sia superiore il volume maggiore a 5 milioni, fammi vedere la cella con uno sfondo per esempio verde. Ok? E poi aggiungimi un'altra definizione di condizione dove se il volume invece è inferiore a 5 milioni, quindi minore o uguali a 5 milioni, in questo caso lo sfondo ve lo farai vedere rosso, in questo modo graficamente riuscirò immediatamente a vedere quando sarà presente questo tipo di formattazione. conferma e vedete come il mio volume quindi abbia cambiato colore in funzione del fatto che il volume scambiato sia superiore o inferiore ai 5 milioni, quindi rivedendo velocemente i passaggi, tasto destro, formattazione, selezione formattazione, nuova, quindi posso impostare la mia nuova formattazione e in questo campo potrò definire i colori che voglio far visualizzare per questo tipo di formattazione condizionale. Ora abbiamo visto quindi velocemente anche il raggruppamento e la formattazione condizionale, adesso andrei a parlare un attimino però anche di delle liste personali, quindi andare a vedere come posso andare a selezionare un determinato dei determinati titoli e andare a creare una mia propria lista anche allo scopo per esempio di andare a avere una visualizzazione più chiara della piattaforma e per vedere per esempio eseguire una nuova lista di titoli personali, andrò quindi come poterlo, e vado ad associarci la vista personale qui della vista di setup di colonne azionario, conferma. Verrà creata questa lista che al momento è vuota, però io posso velocemente andare a popolare prendendo i vari titoli che mi interessano e trascinandole all'interno, sia con una selezione singola, sia come abbiamo visto prima attraverso il control, per esempio con una selezione multipla di titoli. Una volta che ho creato la mia lista di titoli che voglio seguire, potrò scegliere per esempio di modificarne l'ordine semplicemente prendendo il titolo e spostandolo, quindi per esempio Atlantia voglio che venga posizionato in basso, prendo, trascino, in questo modo immediatamente viene spostato, quindi molto velocemente posso agire sulla personalizzazione anche dell'ordine dei titoli presenti nella mia lista personale semplicemente trascinando il titolo nella posizione che più mi interessa. Nell'SL Stream 5 poi abbiamo introdotto anche una serie di novità sulle liste personali, quali per esempio c'è la possibilità di inserire anche delle righe vuote all'interno della mia lista personale, per andare così a delimitare e a dividere magari le varie tipologie di titoli, tasto destro, liste personali, aggiunge righe, in questo modo viene creata una riga di separazione e tasto destro, liste personali, posso anche andare ad inserire un commento su questa riga vuota che ho creato, per esempio le chiamerò azioni e ancora posso andare per esempio a scegliere un colore diverso per dare una maggiore evidenza a questa riga che a me servirà di separazione tra i vari titoli che sono presenti nella mia lista personale. Facciamo verde, che sia ben visibile, in questo modo vedete quindi ho oltre ai miei 5 titoli che ho inserito prima, ho inserito una nuova riga, in questo caso vuota di demarcazione dove andrò a introdurre e a digitare un testo che preferisco che mi permetta quindi di aiutarmi nel dividere al meglio i titoli presenti sulla mia lista personale. Questa funzione è anche molto importante perché le liste della Selle Stream 5 sono delle liste multistrumento, quindi io potrò inserire contemporaneamente azioni, obbligazioni, derivati, indici, tutto all'interno della mia lista personale, in questo modo diventa molto utile questa funzione di inserire delle righe per esempio vuote per andare a separare magari le azioni dalle obbligazioni, dai derivati, eccetera. Quindi rivediamo velocemente i giusti passaggi, possiamo anche andare poi a rimuovere questa riga tramite rimuovi riga e rifacendo velocemente i passaggi, tasso destro sulla lista personale, liste personali e avrò aggiungi riga. Posizionandomi all'interno della mia riga vuota, sempre tasto destro, liste personali, potrò poi dopo per esempio inserire un commento su questa riga creata, potrò modificare il colore di sfondo, il colore del testo e il carattere. Una volta che ho creato la mia lista personale e l'ho personalizzata, come in questo caso inserendo quindi anche questa riga vuota, sotto il menu liste personali, nella finestra gestione, troverò tutto l'elenco delle liste personali che io ho già creato e per ognuna di queste avrò la possibilità anche per esempio di personalizzare come abbiamo fatto anche direttamente sulla lista, per esempio utilizzando questi tasti potrò aggiungere delle righe vuote, rimuovere delle righe oppure potrò modificare l'ordine spostando in alto e in basso le varie righe o i vari elementi che compongono la lista. Posso andare anche a eliminare una lista che ho già creato, per esempio prima avevo la lista prova, voglio andare a eliminarla, una volta selezionata vado su elimina, se è sicuro di voler cancellare la lista con i 20 elementi, do la conferma e vediamo come tra le liste personali oltre ad avere l'azionario Italia e le altre due liste Ticker Push e Ticker Push 2 che rappresentano il ticker, quindi la banda scorrevole che io visualizzo sopra la piattaforma, è richiamabile da servizi ticker, quindi da qua definisco i titoli che sono presenti sul mio ticker, quindi da questa finestra potrò andare a vedere quali titoli ci sono, quale liste ho, andare a personalizzare le mie liste personali e andare a togliere per esempio titoli o rimuovere, aggiungere righe, quindi fare una massima personalizzazione anche delle mie liste personali. Una ora, viste anche le liste personali, andiamo a vedere una delle ultime novità introdotte sulla piattaforma Select Stream 5 che è appunto la mappa del mercato. Andiamo ad aprire il nostro tabellone del Fuzzimib e andiamo a vedere quindi tramite questa icona come posso cambiare la visualizzazione grafica di un qualsiasi tabellone presente all'interno della Select Stream 5. Cliccando sull'icona qui dedicata alla mappa del mercato, avrò la possibilità di visualizzare in maniera molto diversa il mio tabellone. In questa mappa del mercato avrò una chiara evidenzia di quali sono i titoli che hanno dei maggiori volumi, sono maggiormente scambiati in quanto hanno comunque delle dimensioni più grosse e vedremo con la colorazione quali sono i titoli che hanno le migliori performance, quelli quindi verdi, da quelli che hanno delle performance invece peggiori. Andiamo, il peggiore molto probabilmente sarà quindi o Banco Popolare o comunque Moncler, che hanno sicuramente le variazioni negative oltre il 3% e vediamo come ogni singolo box che compone la mia mappa mercato rappresenta sia dispositivo nei confronti del singolo titolo sottostante, quindi in questo caso il principale vediamo come volumi scambiati e Eni, tasto destro avrò il menu contestuale che sarà legato al titolo Eni, quindi potrò per esempio aprire uno scalper book del titolo, aprire i grafici, aprire i dettagli del titolo, analizzatori di TIC. Per andare a personalizzare graficamente la mia mappa del mercato, come prima posso agire o da strumenti, configurazione generale e all'interno del tabellone, quindi visualizzare qua il visualizzatore del mercato, modificare sia la parte grafica, quindi posso scegliere per esempio di farlo andare dal rosso al blu e poi potrò scegliere di far valorizzare i singoli quadranti in funzione del controvalore scambiato dal singolo titolo, dalla sua capitalizzazione o dal volume scambiato, quindi ho 3 differenti modalità per andare a definire anche la valorizzazione della mia mappa del mercato. Andiamo a vedere in funzione dei volumi come cambia e in questo caso quindi cambierà la visualizzazione dove avremo Telecom che è il titolo più scambiato oggi ed è comunque quella che è la maggiore dimensione e anche l'andamento comunque ripercorre la modifica che abbiamo fatto prima dove abbiamo detto il migliore identificamelo con l'azzurro e il peggiore con il rosso scuro. In questo modo quindi mi dà una chiara e veloce visualizzazione del mercato in funzione di criteri che sono differenti rispetto alla visualizzazione classica del tabellone, quindi questa funzionalità rivediamo un attimo come l'abbiamo attivata, semplicemente cliccando sull'icona modalità stock list all'interno del mio tabellone. Questa funzionalità può essere utilizzata per qualsiasi tabellone e in questo modo riuscirò ad avere una visualizzazione molto rapida e immediata di come sta andando in un determinato paniere o una determinata lista di titoli. Tornando alla visualizzazione classica andiamo a vedere poi altre funzionalità che sono presenti sempre sui tabelloni della Selle Extreme 5, per esempio anche sui tabelloni è possibile andare ad utilizzare il concetto di gruppo, andiamo a ripetere velocemente che cosa consiste il gruppo, è una funzionalità che abbiamo già spiegato anche nei webinar precedenti, ma a ripetere non guasta mai. Andiamo per esempio a fare un esempio su Autogrill, tasto destro, ne apriamo un dettaglio del titolo e andiamo a aprire su Autogrill, tasto destro uno scalper book, andiamo a ridurre e tramite la funzione gruppo che è richiamabile dalla prima icona presente in alto, gruppi, vado ad associare a questa finestra il colore blu come gruppo, allo stesso modo anche il dettaglio diventerà blu, potrò scegliere per esempio, quindi in questo caso avrò scelto di collegare il colore blu e tra di loro queste due finestre saranno collegate, quindi nel momento in cui andrò a trascinare un nuovo titolo all'interno di una delle due finestre, entrambe si aggiorneranno con il nuovo titolo, perché tra di loro sono collegate, quindi non dovrò fare due volte il drag and drop per fare in modo che si aggiornino le due finestre, ma basterà fare il drag and drop, il trascinamento una volta sola ed entrambe le finestre quindi si aggiorneranno con il nuovo titolo che ho caricato. Una cosa molto importante, come vi dicevo prima, che anche nei tabelloni posso andare a collegare tramite la funzione gruppo le finestre collegate, quindi oltre ad avere il dettaglio del titolo, oltre ad avere lo scalper book che è collegato al gruppo blu, in questo caso l'ho aggiunto anche il tabellone, quindi ogni qualvolta andrò a selezionare un titolo dal tabellone, questo andrà a far aggiornare anche il mio dettaglio e il mio scalper book, quindi molto velocemente, quindi riuscirò a visualizzare per esempio in questo caso il dettaglio e lo scalper book di un titolo semplicemente cliccando sul titolo all'interno del tabellone, quindi questa funzionalità permette veramente di accelerare molto la mia operatività, perché in questo caso l'ho applicato su un dettaglio e su uno scalper book, ma posso farlo per esempio anche con i gratici, con l'analizzatore di tick e in questo modo molto velocemente riesco a avere una panoramica completa su un singolo titolo, modificando la visualizzazione con un singolo click. Altra cosa che volevo ancora andare a vedere, prima o poi dopo di lasciare lo spazio finale alle domande, era appunto il ticker che è una sorta di lista personale che posso vedere all'interno della Select Stream 5, come abbiamo visto prima, se vado sotto servizi ticker, verrà creata una banda scorrevole dove potrò visualizzare l'elenco dei miei titoli con una banda scorrevole che viene visualizzata sopra il, in questo caso non viene visualizzato perché purtroppo col programma video live mi taglia la parte superiore e purtroppo non riesco a farvelo vedere con questa funzionalità, però è di fatto anch'esso una lista personale come quelle che abbiamo visto prima e per effettuare la personalizzazione del ticker, quindi questa banda scorrevole che però adesso non riusciamo a vedere, posso agire sulle mie liste personali nella gestione dove avrò ticker push e ticker pull, ticker push 2 e ticker push, dove vedrò quindi gli strumenti che sono caricati su questa banda scorrevole e potrò per esempio cambiare nell'ordinamento oppure qualora volesse andare a inserire un nuovo titolo all'interno della mia banda scorrevole, sarà sufficiente trascinare il titolo sopra la banda scorrevole, che però come vi dicevo prima non è possibile visualizzare perché va oltre il monitor che mi permette di far visualizzare con video live. Ora per quanto riguarda la mia spiegazione io avrei finito qui, vi ricordo allora velocemente solo i prossimi appuntamenti, i prossimi webinar, se noi andiamo sempre sul sito SellaIt nella parte Trader Corsion Online Webinar, andiamo a vedere i prossimi incontri, avremo quindi degli appuntamenti con Maurizio Milano e Pierluigi Gerbino, mentre sulla piattaforma Sellestream 5 il prossimo appuntamento è il 4 novembre dove andremo a fare invece un focus su tutto quello che riguarda la personalizzazione e la configurazione di Sellestream 5. Vi ringrazio allora dell'attenzione, vi auguro un buon trading e buon proseguimento di giornata. Arrivederci!